Altra misura altamente significativa contenuta nel provvedimento in questione è inoltre quella che sancisce la conservazione della validità dell'anno scolastico 2019-2020. L'articolo 32 del Decreto Legge numero 9 recita che qualora le istituzioni scolastiche del Sistema Nazionale di Istruzione non possano effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del Covid-19, l'anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del Decreto Leggislativo numero 297 del 1994. Altresì abbiamo disposto che sono del pari decurtati proporzionalmente i termini previsti per la validità dei periodi di formazione di prova del personale delle istituzioni scolastiche e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio.